Salve amici dell'incazzato.it, oggi siamo a San Pietro a Patierno insieme al signor Raffaele Cozzolino, residente davvero incazzato. Salve signor Cozzolino, qual è il vostro problema? Il nostro problema è che non ci aiutano e non ci fanno niente, qua siamo rovinati perché siamo abbandonati da Dio e dagli uomini. Noi stiamo facendo le care, le corse per andare a pagare i pigiuri che poi non ci arrivano perché i postini non li mandano. E' un po' problematico quello che vi ho fatto vedere, che ci stanno dei topi, ci sta l'ota, ci sta merda, l'infrizzazione di acqua, ci sta un casino di merda. Noi stiamo con voi e voi con noi non ci state proprio. Noi paghiamo, ringraziamo e voi da noi non ci comprendete niente, cioè non ci date proprio niente. Paghiamo luce noi, paghiamo il palazzo noi, paghiamo i guagliori per venire a fare scopo a Catreda, l'euro che volessero mangiare voi che state chiedendo i cori e non vuoi venire a mangiare. Vimbaluano noi che è mano nostra. Cioè, che cazzo stiamo facendo? Noi possiamo fare pure che noi non pavamo più perché Catreda, Roma è ricetta che è proprietà privata. Questo fa parte del comune di Napoli, signor sindaco di Napoli, signore. Che poi si nasce un soldo di vento. Giusto, signor sindaco? Vi voglio dire una cosa. Guarda che stai a casa dopo tu. Guarda che stanno abbandonati. Non fai con me schettino perché schettino vai ad abbandonare sul fuoco. Tu stai facendo peggio schettino perché vuoto mio. Quanto doveva a te non ti potevo mai dare. Perché i soldi fondi nostri dove vanno in tasca del fratello del sindaco, in tasca del sindaco, in tasca di quello. E noi stiamo sempre chiunque da di prima. Se sei un uomo, che sei un sindaco, non vuoi sindaco, se sei un cittadino, viene a vedere la nostra situazione che in quale schifo stiamo. E tu le fai vivere a te, dove stiamo noi e facessi la vivibilità come si vive. Quindi voi avete fatto degli esposti al comune di Napoli? Abbiamo fatto tutti gli esposti, l'istituzione, nessuno, nessuno. Non sono mai venuto qui dietro, mai e poi mai. I topi perché non vengono puliti i tombini. Rotto a terra, mia mamma è caduta quattro anni fa, si è rotto due costi. Il comune di Napoli non ci sono i fondi, ma questi belli fondi dove stanno? Noi paghiamo. Anzi, stiamo facendo il corso per chi ha appigliato su agosto e settembre. Perché i postini non ce li portano. Come dobbiamo fare? Come ci dobbiamo rivolgere? Come ci dobbiamo comportare più signore così o più loto come siete voi? Quindi voi volete pagare ma non potete pagare? Noi vogliamo pagare, non possiamo pagare. A chi paghiamo? I peggiori non ci arrivano. A chi dobbiamo pagare? A chi dobbiamo pagare? A chi ha apportato il sindaco di Napoli? A chi ha apportato il liquido? A chi lo liquido lo serve? La magistratura che si sta guardando per un po' il sindaco di Napoli. E' il primo di questi fondi a questo anno. Sta bella magistratura che ha fatto il coso rossa. Non è fatto solo con i camorrisi, ma lo facessi proprio con l'azzo San Giacomo. E soprattutto le condizioni di questo palazzo sono deletere dal punto di vista della sicurezza. Che cosa sta succedendo al suo balcone? Questo balcone, il balcone di mia mamma che sta per cadere. Avete visto? Ci abbiamo le sfarsure così grandi. L'abbiamo fatta la richiesta 4-5 volte e nessuno è venuto. Ma questo facciamo solo il balcone di portici. Tanto si arrendono quando si è morta il signore. Facciamo il mio funerale. Non ci servite proprio. Non ci siete mai servute e non servite proprio. Quindi stiamo parlando di una tragedia annunciata? Certamente. Quella è una tragedia annunciata. Può passare qualche macchina, può andare in un barcone. A me quando piove io arzo la tenda perché si rompe. E una volta mi hanno fatto la tenda di soldi. Non dite il signor sindaco. Non faccio il sindaco di Napoli. E quindi l'acqua che si infritta nel barcone, si infritta nelle parete, è pocareo. Si può affacciare a mia mamma, si può affacciare a una bambina. Mi posso affacciare io. Io ci lavoro onestamente. Ma perché mi fanno queste cazzate per l'ultima tutta roba ancora? Corriere i pombieri, corriere i guardi, la legge, la magistratura. Non ci servono. Andiamo a servire la magistratura. Andiamo a poco in il palazzo San Giacomo. La guardia di finanza però. Deve andare la guardia di finanza un po' nel palazzo San Giacomo. A vedere che succede, i fondi dove stanno. Perché noi paghiamo. Anzi, vi sto annunciando che pure, vi sto dicendo che pure ci servono i pombieri, se gentilmente le volete mandare perché dobbiamo pagare. Noi facciamo due il nostro, ma quello che non fate voi, volatete fuori di San Pietro, chiamiamo uno spazzino. Guardate che dovete, questo è comunale. No, 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 quello è privato. Il signor dice che se è privato perché puliscono a dieci metri più avanti di noi. Se è privato è benvenuto che vi date le pombieri. Cioè, vorremmo noi come ci stiamo sempre vorremmo noi. E' benvenuto che vogliono pagare i fondi e tutti questi soldi non ci stanno proprio. Quindi alla luce di questi fatti vuole fare un appello al sindaco di Napoli? Sì, voglio dire al sindaco di Napoli che gentilmente se si può muovere a vedere un po' questa merda, perché questa è merda, non vengono i ciardinieri, non vengono uno spazzino, non nemmeno avuto mai l'onore, signor sindaco, che vengono spazzino in Torino Russo. Cioè, no, è proprietà privata. I pigliopi sono e ti guardano che è proprietà privata, ma pensi che è comunale. A chi ci mi rivolge dopo di lei? A qualcun altro importante o più di lei? Dove mi deve andare a rivolgere? Oggi è a Roma e va già denunciato tutto quanto da guardia di finanza. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti